With the square cuts of their shape, these rocks don't lose their shape, diamonds are a girl's best friend. Tiffany's Ciao, vi diamo appuntamento a settembre con le nuove lezioni di trucco by Profonderie Galeazzi. Tante novità quest'anno a partire da questa bellissima postazione di trucco qui alle Groth Center. Novità a 360 gradi a partire dal trucco, la cosmesi, ma anche la cura del corpo e del benessere con i nostri centri estetici Life Center. Quest'estate ripassate con noi con le repliche delle migliori lezioni di trucco by Profonderie Galeazzi sul canale 12 di ETV. Venite a trovarci anche online sulla nostra pagina Facebook di lezioni di trucco by Profonderie Galeazzi Staff.